Veramente, io non me la sento di stare in una trasmissione in cui non posso dire niente. Non perché non glielo facciamo dire. No, 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 perché ritengo che quello che è successo ieri sera mi interroghi e mi faccia probabilmente fare delle scelte che non è giusto che annuncia nome nel PDL, perché sono qua, perché sono nel PDL, per cui se mi scusate, io vi ringrazio per l'invito, io non me la sento mica di continuare la trasmissione, me ne vado proprio perché non, come diceva Faccio, ho l'abitudine di dire tutto quello che penso, di dirlo anche magari in modo spiacevole. A noi farebbe molto piacere che lei lo dicesse qui, naturalmente. No, invece ritengo che sia giusto che faccia la riflessione anche con altre persone, perché ripeto, io mi sono stufato, mi sono rotto, però voglio che questa cosa che è molto personale diventi anche un dato politico. Per cui preferisco alzarmi perché non ho più niente da dire sul tema e non voglio continuare a parlare del vuoto, non è mia abitudine, non è una giornata di scelte importanti che non si fanno al mattino alle otto e mezza dopo quello che è successo ieri, che secondo me ha una rilevanza fondamentale. Cioè, non si può stare, è finito il tempo in cui si possono servire due padroni, o si sta da una parte o si sta dall'altra. Io ho deciso dove stare, vorrei farlo con alcuni colleghi perché abbia un significato politico, ma non è giusto che abusi di questa della mia presenza qua oggi. Ieri vi ho detto sì, senza sapere cosa sarebbe successo stasera, però, ragazzi, non ce la faccio, a dire niente non ce la faccio. Ed è giusto che vada a riflettere un attimo. Però è interessante, tra tanti politici che arrivano per non dire nulla, lui va via perché non vuole non dire nulla. Però rimaniamo naturalmente, saremo interessati a seguire le mosse, soprattutto se appunto se Crosetto... Le mosse hanno più valore umano. Lei si ha... ma ha sentito Alfano in questo... No, è quando alle sette stamattina, è difficile. Grazie, scusate per la scortesia. No, non possiamo... non è una... riteniamo che sia molto significativo, naturalmente parleremo di questo gesto di Crosetto. Arrivederci. Grazie.